Per la terza volta in una settimana l'ospedale di Borgomanero ha cambiato assetto per poter dare un'adeguata risposta all'emergenza in linea con l'unità di crisi regionale. La direzione al fine di dare risposta all'emergenza e dalle necessità urgenti come fratture, distacchi di retina, ictus, infarti e via via si è mossa in due direttrici. La prima, le attività chirurgiche tradizionali e operatorie dedicate alla gestione delle urgenze non collegate alla pandemia sono state riunite nella palazzina del Dipartimento Materno Infantile che ora ospita anche urologia, oculistica, chirurgia e traumatologia. Questa operazione ha permesso di dedicare ai pazienti Covid-19 ulteriori 24 posti letto per complessivi 81. Inoltre la riconversione ha permesso di raddoppiare il numero dei posti letto in terapia intensiva sino a 12 per casi conclamati e 4 per patologie non Covid. Diverso il capitolo che riguarda il personale, sono stati impiegati a servizio dell'attività sanitaria sia dirigenti medici sia operatori del ruolo sanitario appartenenti a diverse strutture ospedaliere territoriali, in modo da far fronte alle necessità assistenziali affiancandoli agli operatori che già lavorano con pazienti fragili e complessi. Tutto il personale con grande disponibilità ha garantito nell'ultimo weekend la copertura dei turni nei reparti dedicati ai pazienti Covid-19 positivi. Però non è sufficiente per continuare a supportare i medici della medicina interna, del MECAO e della rianimazione impegnati sul campo da settimane ai quali va il grande grazie della direzione è stato richiesto a ciascuno di fare fino in fondo la propria parte. Questo dedicandovi quelle figure mediche che oggi hanno un carico di attività ridotto per primi gli specializzati in discipline affini o equipollenti senza distinzione specifica. Per supportare tutto il personale in questo grande sforzo fisico ed emotivo il servizio di psicologia ha attivato una consulenza psicologica attiva 6 ore al giorno.